Il sole è come una guida per la vita di tutti i giorni e dispensa benefici su quasi tutte le risorse naturali. Sfortunatamente le costruzioni di oggi raramente fruiscono di sufficiente luce naturale. La luce elettrica, senza umbra di dubbio, determina una perdita secca di energia e crea spazi dove si riscontrano effetti psicologici ed ambientali negativi notevoli. La luce solare, invece, ci rivela il nostro mondo con i suoi colori reali, solleva lo spirito, rende gli spazi più grandi, più netti e più attraenti, riduce la fatica degli occhi, aumenta la produttività e fornisce un'alternativa libera e pulita rispetto all'energia prodotta da combustibile fossile. Oggi i sistemi economici di illuminazione ottica altamente avanzati permettono ad un numero sempre maggiore di persone di avere il vantaggio della luce naturale. Grazie al nostro progetto rivoluzionario, la luce diurna, in tutta la sua brillantezza e bellezza, può essere convogliata e diffusa negli spazi interni. Il risultato è sorprendente. Il prodotto è Solatube. Solatube ha inventato l'apparicchiatura tubolare che trasporta luce naturale e da circa 20 anni ha visto crescere la clientela internazionale. Come pionieri industriali, la nostra tecnologia ottica avanzata permette un'efficace illuminazione naturale dove tradizionalmente sarebbe stata un'opzione. I sistemi di illuminazione Solatube sono facili da installare. Una scossalina senza saldature garantisce la tenuta alle intemperie nel tempo. Un design compatto, inoltre, permette un inserimento facile nella maggior parte dei tipi di copertura senza la necessità di modifiche strutturali ed un'integrazione nella maggior parte delle soffittature. La realtà è che il sistema di illuminazione Solatube è un'innovazione tecnologica che fornisce prestazioni molto elevate. La tecnologia Ray Bender 3000 è lo stato dell'arte delle lenti ottiche che è in grado di catturare la luce dalla cupola e convogliarla nel sistema anche quando i raggi solari hanno una bassa inclinazione sull'orizzonte, garantendo un trasporto di luce pura e costante durante tutto l'arco della giornata. Per ottimizzare le variazioni di luce diurna durante l'arco dell'anno, Ray Bender 3000 scarta i raggi solari estivi molto intensi del mezzogiorno, mentre il Solatube Light Tracker, il riflettore posto all'interno della cupola, è in grado di convogliare i raggi di luce invernali anche se con bassa angolazione. Così facendo, il sistema riesce ad assicurare una prestazione insuperabile durante tutto l'arco dell'anno. Una volta entrati nella cupola Solatube, i raggi solari vengono convogliati nel condotto Spectralight Infinity, costruito con il miglior materiale riflettente disponibile al mondo. Le superfici a specchio di Spectralight Infinity, con una riflettività del 99,7%, garantiscono il massimo di trasporto della luce senza alcuna variazione dei colori. È possibile sistemarlo nel sottotetto sia pieno che multipiano e si può installare con successo anche ad una distanza di 15 metri. Un diffusore ottico distribuisce efficacemente la luce nello spazio interno. Un ambito sempre crescente di utilizzo di questi impianti valorizza il design e il comfort di ambienti interni. Solatube Daylighting System è riconosciuto universalmente come un modo efficace di portare il beneficio della luce diurna naturale negli spazi interni. L'illuminazione elettrica negli edifici solitamente incide sui costi energetici per circa il 40%, in molti casi può arrivare fino al 75%. Quando si decide di usare il controllo dell'illuminazione, il sistema Solatube System viene usato per risparmiare la maggior parte se non tutto il carico elettrico durante le ore diurne e ciò comporta una drammatica riduzione dei gas serra assai nocivi derivanti dall'energia prodotta con i combustibili fossili. Se si considerano le possibili emissioni derivate dalla produzione di energia per una semplice lampadina fluorescente standard per un anno e si considerano le centinaia, migliaia e i milioni di installazioni che si possono sostituire con il nostro sistema, si può capire il vantaggio nell'utilizzo di Solatube Daylighting System. La riduzione dell'impatto ambientale è veramente incredibile, ma i vantaggi non finiscono qui. I proprietari di edifici in cui è stato installato Solatube Daylighting System fruiscono di risparmi energetici diversificati. Infatti non solo viene ridotto enormemente il consumo energetico globale, ma esso è ridotto quando la domanda ed il costo sono più elevati. Inoltre l'uso di meno illuminazione elettrica comporta un riscaldamento inferiore dell'ambiente che si traduce in una riduzione energetica dovuta al raffrescamento di aria condizionata. Integrare Solatube Daylighting System negli edifici è facile ed accessibile come costi. Solatube International ha sviluppato dei semplici strumenti per aiutare gli architetti, i progettisti dell'illuminazione e gli ingegneri ad inserire Solatube Daylighting System nei loro progetti. Gli strumenti consistono in istruzioni particolareggiate per i clienti, linee guida di base per la spaziatura per permettere un'installazione veloce, un file fotometrico e IES per calcolare le previsioni delle emissioni di luce nelle varie ore della giornata e nelle varie stagioni dell'anno. Questi strumenti sono facilmente accessibili in sezioni speciali per professionisti sul sito web infinitimotion.com. Più di un milione di utenti stanno sfruttando i vantaggi di Solatube Daylighting System. Parla con uno specialista di come puoi usare i prodotti Solatube nei tuoi progetti quotidiani. Grazie per la visione!